Non amo molto i diari di viaggio, ma questo è veramente bello. Il confine è più in là di Elettra Pistoni. Elettra è una donna, più o meno della mia età, che per vent'anni fa ha fatto la web designer e a un certo punto è partita per un viaggio a piedi lungo 4.000 km, lungo il Pacific Crest Trail, dal confine del Messico fino al Canada, e sono dei 4.000 km abbastanza pericolosi perché sei veramente nella natura selvaggia. Elettra è una bravissima scrittrice, è una bravissima anche fotografa e ti coinvolge veramente tantissimo in questo suo viaggio a piedi. Io personalmente sono attratta dai viaggi a piedi e soprattutto dai cammini molto lunghi. Chi mi segue in questa mia rubrica lo sa ed è per questo che vi suggerisco anche questa volta quest'altro libro perché veramente ti fa venire voglia di partire. Nel libro di Elettra scopro che il Pacific Crest Trail in realtà è molto frequentato per cui non sempre rischi di ritrovarti da sola in mezzo alla natura selvaggia anzi spesso ti ritrovi a camminare in compagnia nel bene e nel male. Elettra parla dei momenti di profonda solitudine così come parla e condivide i momenti di amicizia, di legami che nel camminare sono veramente molto molto diversi che nella vita normale tra virgolette perché si è soli con il proprio corpo e con le proprie forze e quindi i legami che si creano possono essere anche molto più profondi. Trovo che Elettra con le sue scelte di vita si ha veramente molto di ispirazione per tutte le persone, per tutte le donne che si sentono magari bloccate in una situazione da cui non riescono ad uscire e camminare è uno dei modi più belli e più efficaci per riuscire ad uscire dalle proprie routine e dalle proprie anche tristezze per riuscire a creare una vita più intensa, più forte, più bella.